Ok, allora purtroppo vi devo dire che la prossima è la nostra ultima esibizione, è l'ultimo partecipante in gara, dopodiché allora vi avviso che ci sarà un live delle Karma, che praticamente faranno appunto la loro esibizione mentre i nostri giudici delibereranno su chi sarà il vincitore di questo contest. Bene, quindi adesso faccio salire la Yume Crew, prego, un applauso. Allora, qui mi sento il dovere di informarvi di una cosa, che questa crew doveva aprire questo contest, doveva essere la prima, ma qui abbiamo una piccolina che si è sentita male, ecco, cioè era quasi collastata sulle sedie, quindi l'abbiamo sposata, come si sente adesso? Speriamo vada bene. E' meglio? Bene, basta. Ok, un applauso. Grazie. 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 Turn back! What are you doing? Be interested From inside And see What are you still doing your heart beating? What are you waiting for? Get up! Come on, boy Are you ready? Let's go Let's go Hey! Hey! Hey 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 Grazie a tutti Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì.